Si è svolto venerdì 21 aprile nella sala Orofino di Confindustria Chieti-Pescara il seminario sui bonus edilizi, volto ad illustrare l'accordo di cessione dei crediti tra imprese del Lance e di Confindustria delle due province di Chieti e Pescara, uno strumento utile per superare il blocco del mondo dell'edilizia, una situazione generata dal susseguirsi di atti normativi che hanno irrigidito il mercato con effetti drammatici. Dopo gli incagli dei crediti dovuti alle diversi cambiamenti sulla legge dei super bonus, oggi le imprese anche con dei bilanci diciamo positivi rischiano di fallire, fallire perché non hanno la liquidità per mancanza della cessione dei crediti ed ecco che nasce questo accordo tra Confindustria Chieti e Pescara e Ance Chieti-Pescara, dopo che l'accordo è stato firmato anche a livello regionale e a livello territoriale, l'hanno già firmato anche la territoriale di Teramo e sta avendo dei buoni frutti, nasce l'accordo per la cessione dei crediti tra le imprese di Confindustria e le imprese di Ance. Non è altro che un borsino, noi cerchiamo di far mettere con l'associazione in interlocuzione, se possiamo usare questa parola, tra le imprese che vogliono acquistare i crediti e le imprese che le vogliono cedere. Purtroppo per fare programmazione, per dare stabilità anche e soprattutto al PIL c'è bisogno, specialmente in economia, di pianificare. Pianificare significa che le leggi devono durare almeno una decina di anni. Nel momento in cui lo Stato attraverso il succedersi di queste mutazioni di regole ha sostanzialmente, come ha detto lei, ingessato il mercato, è chiaro che mentre chiediamo dal punto di vista nazionale lo sblocco dei crediti incagliati che è l'elemento essenziale per riprendere, dall'altro lato tutte queste iniziative che mettono, come dire, che fanno ponte, che mettono in collaborazione delle imprese di costruzione con le imprese industriali potenziali acquirenti dei crediti di imposta, sono iniziative molto importanti perché sono iniziative che danno, come dire, il segnale da un certo punto di vista dell'urgenza e dall'altro anche della vitalità dei territori che cercano, tra virgolette, all'interno del proprio sistema di porre rimedio ai problemi che ci sono.